Siamo venuti a trovare Giuseppe Ricci, Presidente del TB d'Italia, anche perché la giornata oggi si presenta bene, prossima a quella che sarà l'estate 2023, che ha degli ospiti. Sentiamo due amici di Ricci che giustamente sono venuti da Rimini e ci portano alla loro realtà. Rispetto alla costa marchigiana, da voi come vanno le cose? L'emergenza principale che ci siamo trovati ad affrontare negli ultimi 15 anni è quella relativa all'applicazione della direttiva servizi e da questo punto di vista abbiamo ritenuto importante unirci agli amici dell'ITB perché c'è l'esigenza di rappresentare meglio quelle che sono le esigenze delle nostre imprese e soprattutto per fronteggiare la scorretta applicazione della direttiva servizi, che è una direttiva che riguarda i servizi, mentre le nostre sono concessioni di beni e le nostre concessioni si sono ritrovate inspiegabilmente, ricomprese nell'ambito di questa direttiva. Quindi la nostra necessità è quella di far valere quelli che sono i nostri diritti di imprenditori. Noi avevamo sostanzialmente la proprietà di un bene che in questo momento vorrebbero espropriarci mettendo all'asta le nostre imprese e quindi noi ci opponiamo a questa sorta di esproprio proletario che farebbe perdere anche alle coste italiane quella che è la peculiarità, la cultura del nostro saper fare balneazione e quindi chiediamo fondamentalmente la possibilità di continuare a fare il nostro lavoro, magari ottenendo una sorta di diritto di superficie per poter fare nuovi investimenti e quindi dare impulso ed espansione a quelle che sono le nostre attività, creare nuovi servizi per continuare a fare il nostro lavoro di ospitalità. Entrare in ITB perché Ricci ormai è una lotta che fa da tanti anni perché da soli non si va da nessuna parte. Sì, noi abbiamo diritto a questo gruppo che molti anni che Ricci lo conosciamo da Rimini, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso nuovo, ci fa molto piacere visto la situazione del momento. Ci sono speranze che forse a Roma qualcuno si renda conto di tornare un po' sui suoi passi. Se c'è ancora bisogno di urlare, se urliamo in tanti forse la nostra voce arriverà anche a Roma e che prendano i provvedimenti giusti, quelli che poco fa ha detto il nostro amico Gabriele, fateci lavorare e continuare a investire su questo settore che abbiamo creato noi, modestamente. Siamo stati gli autori, fateci continuare a farlo, sarà un bene per noi e per tutti. Soprattutto per l'economia nazionale. Signore, io vi faccio l'in bocca al lupo perché l'importante è crederci su quello che si fa. Grazie e buona giornata. Grazie.